Voglio tornare ancora un momento sul testo di Padre Faré per farvi notare qualche altro errore grave che emerge da questo testo. Andiamo alla pagina 5 dove Padre Faré parla della rinuncia di Benedetto XVI e afferma che è una dichiarazione e non rinuncia. Afferma in particolare Padre Faré l'atto di rinuncia di Benedetto XVI è inesistente perché manca in esso la volontà di abdicare, lo si evince da vari fattori. Innanzitutto si tratta di una mera dichiarazione. La formula dichiaro di rinunciare in gergo legale non è lo stesso che dire io rinuncio. Il Papa avrebbe dovuto dire dichiaro di rinunciare come in effetti rinuncio, una formula simile. Così come è stata pronunciata la dichiarazione di Benedetto XVI è appunto solo una dichiarazione, non un atto giuridicamente valido, né alla dichiarazione è succeduta alcuna ratifica. Come evidenzia Don Fernando Maria Cornè, il titolo dato da Benedetto XVI al documento è declarazio, vale a dire dichiarazione e non rinuncia o abdicazione. La cosa colpisce, a maggior ragione, perché abitualmente gli atti dei papi non hanno un titolo, ma prendono il titolo dalle prime parole del testo stesso. In questo caso, invece, Benedetto XVI ha deciso di apporre un titolo specifico. Ecco, tutto questo che dice Padre Farè è tutto falso. Già ho spiegato che questo è, che quello di Benedetto era un atto, un atto di volontà, volontà libera, perché la libertà è propria della volontà. Benedetto ha detto chiaramente che lui faceva questo atto liberamente e quindi appunto la libertà implica volontà, perché la volontà è una proprietà, la libertà è una proprietà della volontà. nel momento in cui Benedetto XVI ha detto che ha fatto liberamente e ha fatto liberamente dalla rinuncia, evidentemente implicava che la rinuncia era volontaria e d'altra parte la volontà di Benedetto XVI, ecco, è chiaramente nota a livello mondiale, quindi Benedetto XVI ha voluto fare quell'atto, poi appunto il 28 di febbraio ha effettivamente, si è messo da parte e appunto si è andati avanti per il conclave, eccetera. Quindi Benedetto ha voluto rinunciare, ha rinunciato e appunto quindi quello che dicono questi autori è falso, e l'atto di Benedetto XVI è una rinuncia dichiarata. La dichiarazione appunto di Benedetto XVI era necessaria, proprio come ho spiegato ieri in un altro video, perché Benedetto XVI, essendo Papa, Capo della Chiesa, evidentemente deve far conoscere ad altri la sua rinuncia perché essa sia valida. Quindi per la validità della rinuncia era necessaria la dichiarazione. Ma voglio sottolineare adesso una cosa molto importante che questi signori hanno messo da parte e cioè che il titolo completo della rinuncia di Benedetto XVI non è semplicemente declaratio. Il titolo completo ufficiale che si vede negli Acta Apostolice XVI del 2013 il titolo completo, ripeto, è il seguente Il titolo completo è questo Declaratio Summi Pontificis De Muneris Episcopi Rome Successoris Santi Petri Abdicazione Quindi il titolo non era soltanto Declaratio, ma era una dichiarazione del sommo pontefice circa la rinuncia alla carica di sommo pontefice e di successore di San Pietro Ecco, quindi la dichiarazione di Benedetto XVI era una dichiarazione proprio già nel titolo Dichiarazione di rinuncia e questa dichiarazione di rinuncia era appunto realizzata è stata realizzata dinanzi ai cardinali ecco, è stata quindi poi divulgata in tutto il mondo perché la Chiesa deve sapere deve appunto avere chiara conoscenza del fatto che il Papa ha rinunciato quindi era una dichiarazione necessaria che questa che doveva accompagnare la rinuncia ecco, aggiungo che qui si dice che mancava la ratifica ma questo è un colossale errore perché? perché come leggiamo appunto nel vocabolario in senso strettamente giuridico la ratifica significa in senso strettamente giuridico ratificare significa approvare facendolo proprio un atto un negozio un contratto compiuto da altri Benedetto XVI ha fatto lui direttamente questo atto che doveva ratificare quindi sono assurde queste affermazioni di questi signori assurde eh? non doveva ratificare nulla Benedetto XVI non doveva ratificare nulla appunto lui stesso aveva fatto l'atto non c'era bisogno di nessuna ratifica ecco quindi non era una mera dichiarazione ma era un atto di volontà dichiarato pubblicamente era una ecco una dichiarazione che appunto come ripeto conteneva in se stessa un atto di volontà della suprema potestà un atto di volontà riguardante la rinuncia del Papa quindi era un atto di ecco un atto di piena validità e di piena esistenza esistenza quindi le affermazioni che presenta qui il padre fare sono tutte false radicalmente false radicalmente devianti la declarazione di benedetto sedicesimo è una dichiarazione pienamente esistente pienamente valida dichiarazione di rinuncia benedetto sedicesimo è stato chiarissimo non doveva utilizzare queste affermazioni che non doveva utilizzare le parole che dice dichiaro di rinunciare come in effetti rinuncio no perché appunto la le parole di benedetto sono parole di un papa che deve dichiarare la sua rinuncia perché la rinuncia sia valida perché appunto come ho spiegato ieri e come dicono anche i grandi canonisti come chiappetta eccetera la rinuncia di un papa deve essere libera e poi deve essere fatta in maniera che la gente la conosca qualcuno deve conoscere questa rinuncia perché possa avere valore nella chiesa quindi era appunto una dichiarazione necessaria legata appunto alla rinuncia stessa non si tratta di una mera dichiarazione si tratta di una vera e propria dichiarazione di volontà di un atto di volontà tanto atto non c'era bisogno di come dice qui dichiaro di rinunciare come in effetti rinuncio ma queste sono affermazioni queste sono affermazioni che possono riguardare il diritto civile italiano qui abbiamo a che fare con diritto canonico e con un papa che appunto parla dall'alto della sua eminente posizione ma che scherziamo dichiaro di rinunciare come rinuncio ma queste ripeto sono affermazioni che possono riguardare qualche appunto situazione riguardante il diritto civile italiano ma non possono riguardare sono assurde riguarda un papa il papa se dice di rinunciare vuol dire che sta che sta rinunciando dichiaro di rinunciare cioè che significa dichiaro di rinunciare dichiaro che io rinuncio stop il termine il testo latino si può tradurre proprio in questi termini dichiaro che io rinuncio è chiarissima la rinuncia queste sono proprio affermazioni che non hanno niente a che fare infatti nessun canonista dice queste cose riguardo poi alle parole del papa quando appunto un papa va a rinunciare deve dichiarare tutte queste storie tutte queste ma scherziamo e poi mi vengono a dire che è invalido ma queste sono assurdità gente che non conosce proprio il diritto canonico e non conosce neppure non conosce neppure chi è il papa non conosce quali sono i appunto non conosce quali sono i modi con i quali con i quali il papa diciamo presenta e dichiara la sua volontà sono proprio cose che non non stanno né in cielo né in terra queste affermazioni il papa quando dice che dichiara di rinunciare dall'alto della sua posizione evidentemente sta rinunciando e lo dichiara altro che storie queste sono proprio assurdità questi testi di questi signori sono dei testi appunto come dicevo fondati sulle colossali falsità quando padre ci è venuto a dire che lui è venuto a dire a fare un elogio a cionci ecco questo è il risultato le falsità alla base di questi testi che appunto fanno affermare a questa gente delle cose assolutamente inesistenti false radicalmente false contrarie a quello che tutta la chiesa dice questa gente si è messa non semplicemente contro qualcuno si sono messi proprio contro quello che la chiesa stessa dice con tutti i suoi grandi esperti tutti i suoi esperti ma che scherziamo tutti i grandi esperti e tutti sanno che benissimo tutti gli esperti tutti quelli che vogliono appunto conoscere la verità sanno benissimo che Benedetto XVI ha rinunciato ha voluto rinunciare ha appunto preso tutte diciamo le decisioni conseguenti alla rinuncia infatti si è ritirato e quindi si è messo da parte ha pregato per il conclave successivo alla rinuncia e poi ha fatto obbedienza al Papa Francesco capite quindi tutte queste cose sono tutte assolute falsità benedetto benedetto XVI che conosceva anche il diritto canonico ha fatto una rinuncia del tutto valida ripeto come sanno tutti e poi questa rinuncia è stata diciamo ribadita con tanti atti che appunto mostrano chiaramente come benedetto XVI oltre a rinunciare poi abbia accettato pienamente il Papa che veniva dopo quindi queste sono totali falsità sono totali falsità che non hanno nulla a che fare con la realtà delle cose neppure hanno a che fare nulla con il diritto canonico nel momento in cui qui si parla di un Papa che parla pubblicamente di un Papa che parla liberamente quindi come lui stesso ha detto quindi sono delle affermazioni radicalmente false c'è da vergognarsi per dire per aver fatto queste affermazioni e ripeto anche per aver taciuto che l'atto di Benedetto XVI è in realtà ha per titolo come ho detto e come ripeto ha per titolo dichiarazione di Benedetto XVI circa la abdicazione la rinuncia al ministero all'ufficio all'ufficio di Papa all'ufficio di Vescovo di Rome di successore di San Pietro quindi preghiamo per questa gente per tanta gente che purtroppo si fa diciamo purtroppo si fa deviare si fa appunto mettere si va a portare fuori strada da affermazioni di questo genere che questi signori diffondono di San Pietro